Questa è una sfida veramente pazzesca tra me, il buon Fabio e voi da casa Sempre se state a casa Ovviamente Ecco, ciao Se non siete state sull'autobus, sul treno, dove siete, siete Va benissimo, potrete partecipare a questo video interattivo Ciao, ben ritrovati ragazzi, ciao a tutti Ciao anche da me Ma prima di continuare, prima di spiegare in cosa consiste questo gioco Barra quiz veramente, vi invitiamo a scaricare OneFootball, la link in descrizione È la nostra applicazione preferita per seguire tutto il mondo del calcio Applicazione gratuita per iOS e Android Ragazzi, non ve ne mentirete Fidatevi di noi, provatela Detto questo, cosa andiamo a fare in questo nuovo video interattivo In cui andiamo a sfidare tutti i nostri iscritti da casa Allora, è sempre incentrato su PES, quindi sul calcio in generale Ma non sul PES giocato, ma sul PES statistico Quindi sulle statistiche dei giocatori di PES Quindi, che cosa andiamo a fare? Dobbiamo indovinare semplicemente in base alle statistiche e all'esagono Che compariranno di seguito in sovrimpressione Che giocatore è? Però abbiamo voluto fare la cosa leggermente più abbordabile Se no sarebbe veramente difficile solo dalle statistiche di un calciatore Dall'esagono indovinare di chi stiamo parlando Ognuno di noi ha preparato tre calciatori Però in questo video ne usciranno fuori cinque Quindi due io, due lui e il quinto sarà a sorte Però, per ogni calciatore che abbiamo scelto Oltre a mettere statistiche ed esagono Abbiamo scelto anche quattro nomi Tra i quattro ovviamente c'è il nome del calciatore Bisogna indovinare Quindi vi compariranno i sondaggi a mano a mano E dovrete indovinare il calciatore Alla chi vuole essere milionario Esatto Comincio io nel fare le domande a te Ok Quindi posso andare? Assolutamente Posso prendere il mio telefono dove ho tutte le statistiche Mi devi far vedere la foto tra l'altro Ok Ti stanno per arrivare due foto La prima Eccolo La prima è quella dell'esagono Ok È un portiere Ovviamente Ve lo faccio vedere in sovraimpressione O in cool impressione La prima è un portiere Perché ovviamente 89 di overall Non è veloce Vabbè Ma tutti i portieri non lo sono È particolarmente forte E dribbling passaggio E tiro Va bene Ok Ok Mandami anche l'altra statistica Se scorri la trovi Eccola qui Allora Queste sono le statistiche del giocatore in questione Guardale attentamente Allora Passaggio alto 75 Potenza di tiro 86 Elevazione 85 Contatto fisico 88 Comportamento portiere 94 Presa portiere 91 Respinta 93 Ma c'ha dei riflessi 97 Estensione portiere 96 Precisione piede debole 3 Forma fisica 7 Resistenza infortuni 2 2 89 di overall Di 1.004 opportunità Ok Ci siamo Ovviamente ragazzi Con i portieri Non c'era questa Vastissima scelta Quindi abbiamo La creme della creme Ok Allora io direi Votate in questo momento Nel sondaggio in alto a destra E diteci Secondo voi Chi è il portiere Che vi abbiamo fatto Abbiamo la risposta C'è tra questi quattro C'è la risposta Non è facile Lo so Non è facile Proprio per niente E qua sto cercando Di andare anche a memoria Alisson non mi sembra Noyer mi sembra De Gea e o Black Non so convinto Devi anche ricordare Come gioca un portiere Che tipo di stile di gioco c'ha Certo che me lo Che ci sto pensando 3 possono corrispondere A queste foto A queste foto che stai vedendo Uno un po' meno Questa non è facilissima Resistenza infortuni 2 E' uno che c'ha Parecchi riflessi Però Noyer ancora 89 Io Alisson Lo escludo Te l'ho già detto E lo ripeto Una cosa del giorno Magari Arrivo Arrivo Noyer è Particolare Come portiere E Potrebbe tranquillamente Non dico Fa il difensore centrale O il mediano Ma quasi Ok Ma faccio a capire Le statistiche Mi sembrano un po' Troppo basse Da difensore centrale In mediano Per un Noyer Ad esempio Quindi mi verrebbe Da escluderlo Non è facile Eh lo so Loro hanno votato Loro hanno deciso Io Devi decidere anche tu Non mi ricordo gli overhaul Non mi ricordo gli overhaul Ma Noyer mi sembra Troppo 89 Io ti dico Oblak E la tua risposta definitiva E la accendi Sì Sbagliata Ecco Chi è? Avevi fatto il ragionamento giusto Era Noyer Mannaggia la miseria Lo sai perché? Perché pensavo Che non è più 89 E invece Non so perché pensavo 88 Vabbè Allora Quindi La prima L'hai flopata L'ho flopata alla grande Adesso Tocca a te Vai Se sei pronto Ti invio Sono prontissimo Allora Ecco a te Ok Allora Vedo che ha una punta È una prima punta Guarda le statistiche Sì Ci sono Già l'hai capito? Ho una mezza idea Hai una mezza idea Gli attaccanti secondo me È più facile comunque Vabbè Ma detto questo Allora Le alternative sono Benzema A B Cavani C Firmino D Hurricane Votate in questo momento Nel sondaggio in alto a destra E fateci sapere Secondo voi Chi è Ragiona Allora Mi hai detto Firmino Hurricane Hurricane Benzema E Cavani Benzema E Firmino No Ti li escludo Ok Ragionamento per il quale Li escludi? No Andando principalmente a memoria Perché se guardo troppo le statistiche Te rincojonisci Invece fossilizzo e sbaglio Ok Stessa cosa che ho fatto io Quindi rimangono per me Hurricane E Cavani Sono tentatissimo Sul matador Cavani Ok Però non sono convinto del valore Dell'88 Mi sembra Mi sembra di ricordare che fosse 87 Però forse mi sto sbagliando L'esagono Ti dico la verità L'esagono Mi suggerisce proprio Cavani Vedo proprio Cavani scritto dentro l'esagono Cavani È la tua risposta definitiva? Nel frattempo si è spento il monica? Esatto si nel frattempo che io voglio accendere la risposta si spegne il monitor Accendo ed in suon Cavani Hai indovinato Mortacci tu Hai indovinato Benissimo E vai Allora tocca a te Perfetto Vai con la seconda Siamo 1 a 0 Per te Siamo 1 a 0 Devo assolutamente recuperare Perché se no se mette veramente male Allora Ti anticipo Adesso ti mando le foto Ti anticipo che si tratta di un difensore Ok Te lo appena inviate Ok un difensore bello spisellante Con velocità È 87 di overhaul È particolarmente veloce È forte fisicamente Ha una buona tecnica di base Perché ha un buon passaggio Un buon dribbling È completissimo Veramente molto completo 87 di overhaul Contatto fisico 90 Quindi fisicamente parlando È veramente importante Non ha molta accelerazione Ma un bel po' di velocità Un ottimo colpo di testa 87 E buone statistiche difensive Allora ci abbiamo Coulibaly Sergio Ramos Ok Virgil van Dijk Ok E Rafael Varane L'esagono ti dico la verità Così La prima cosa che mi è venuta in mente È Coulibaly Ok Te li ripeto Ripetili Coulibaly Sergio Ramos Van Dijk Varane Van Dijk no Van Dijk c'è più di 87 Ok Spoco ma sicuro Sergio Ramos Non me lo ricordo Ma mi sembra troppo veloce Non mi sembra Assolutamente Sergio Ramos Guardandolo dall'esagono E su Varane qualche dubbio Mi viene Perché quel terzino destro All'occorrenza Mi sembra proprio Coulibaly Ragazzi voi votate eh Ovviamente Prima non l'abbiamo detto Quando ho fatto io la domanda Vabbè tanto lo faccio comparire Votate e fateci sapere Chi è secondo voi Io ti dico Coulibaly Per la tua risposta definitiva Sì E la accendiamo Sì Sbagliato Non è Coulibaly a Varane È Varane Ciao la puttana È Raffaele Varane Mannaggia la puttana È molto simile del profilo Profilissimo Cioè profilo Ugualissimo Infatti è veramente tanto simile Profilo veramente simile Mi hai inculato Purtroppo con i difensori E portieri pure ragazzi Non è facile È veramente una merda Veramente una merda Quindi Le scelte erano abbastanza limitate Rimaniamo sul 1-0 per me Vai No no Sì tu che mi rimane poco È vero È vero Però se so io che ti devo mandare le foto Gira queste foto Forza Tu a sto giro puoi andare addirittura Potrei andare sul 2-0 Rivediamo però ragazzi È veramente difficile No non era facile Vado È un centrocampista centrale Minchia Che centrocampista centrale aggiungerei Ok Ti dico le alternative Così facciamo votare i ragazzi Dimmi le alternative Intanto sto adocchiando Ho già visto la potenza di tiro 88 Vai Tony Cross Tiago Alcantara Pogba Cante Votate in questo momento E fateci sapere secondo voi Di che calciatore stiamo parlando Allora Tony Cross Te lo escludo subito Ok E Cante altrettanto Ok Quindi rimangono Pogba E Tiago Alcantara E Tiago Alcantara Ho la risposta Di Pogba È la tua risposta definitiva? È l'accello Vai a beccare Portacci tu Però De centrocampisti con l'overall È perché È ovvio Perché Tiago Alcantara e Tony Cross Sono più tecnici rispetto a Sono più tecnici Sì assolutamente E lo avrei fatto anche io Sto ragionamento E Cante Su Cante Cioè Cante c'ha poca resistenza Per essere questo overall È un 85 De resistenza Quindi per esclusione Poteva essere solo Solo Polpo Solamente Polpo E andiamo quindi all'ultimo Senti Visto che ho perso 2 a 0 Dammi la possibilità Di fare 2 a 1 Ci sto Eh? Ci sto E fammi un'altra domanda Mi sta bene Mi sta bene Vediamo che ci esce fuori Quindi Eccole Allora Guardale bene Terzino destro Tutto fare Terzino destro Tutto fare Questo volevo Che andassi A guardare Può fare l'esterno a sinistra E a destra Può fare Questa può essere Relativamente semplice Però devi fare attenzione Alle alternative Che ti sto per dire Ok Vado? Votate anche voi E provate ad indovinare Il calciatore Allora Dani Carvacalla Ok Kyle Walker Ok Joshua Kimmich Sì E Cesar Azpiliqueta Queste sono le 4 alternative Ragazzi voi intanto votate Vi ripeto i nomi Carvacalla Walker Kimmich Azpiliqueta Walker No Troppo lento Carvacalla Ma non direi No Ma tutto fare Kimmich Kimmich è tutto fare Però guardando L'esagono Lo facevo Pensandoci Più forte Più a livello di forza Dici? Sì ma pure più difensivo Secondo me Cioè L'esagono trae molto in inganno Però È lui il tutto fare È lui il tutto fare Kimmich È la tua risposta definitiva Sì E la accendiamo Sì Bravo È Joshua Kimmich Vabbè Io sono curioso Di vedere chi mi ha messo per ultimo Però Eh no Te lo faccio al prossimo episodio Una baracca Di mi piace Su questo video E arriverà presto Un nuovo episodio In cui andremo a fare La stessa identica cosa Avete votato? Quante ne avete indovinate? Detto questo Vi invitiamo a scaricare OneFootball Dal link in descrizione E ci vediamo Alla prossima Con un nuovo video In descrizione Trovate sempre Tutti i nostri profili social Dove seguirci Ciao ragazzi Alla prossima Questa l'hai vinta Ma la prossima mi allenerò Allena ti allena ti Ti aspetto Ciao Ciao